I terreni presentano una diversa formazione di terreno, cioè il terreno produttivo e meno produttivo. Questo è un tratto, o sarà perché cambia il tipo di terreno, gli alberi da tutto qui tendono ad essiccarsi. Ci ho messo il nocciolo con della mente, aprimo gli alberi da tutto, ci ho messo le mele, anche qualche altro ciregio. Cresce rigoriosamente, prosperosamente. E' anche vero che questo è da circa tre anni che si è avviata la produzione. Quest'anno, salvo complicazioni, ma al tempo gelato, soprattutto gelato, metterà molte nocciole. Questo invece è giovane, questi sono degli innesti che non hanno attaccato, però non c'è problema. Cosa, c'è l'unico che si è avviata, non c'è l'unico che si è avviata, non c'è l'unico che si è avviata.